Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora, quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno a cura di Matteo Neroni. Perfetto, abbiamo sentito un bel campanellino che è il fischio d'inizio di questa lampadina di questa mattina. Allora, non so se avete già partecipato alle lampadine del mattino, che alcune volte all'interno del canale Telegram attiviamo, un pochino per appunto dirigere una lampadina, cioè quindi mettere luce a un aspetto della nostra psicologia, della nostra mente. E stamattina lo facciamo con il tema dell'evitamento, no? Questa parola che in qualche maniera magari ognuno di noi ha sentito o vissuto a proprio modo. E' quello che possiamo dire da questo punto di vista, che in psicologia l'evitamento è un processo fondamentale. E' un processo fondamentale perché è una strategia comportamentale sostanzialmente, che noi mettiamo in atto molte volte. Cioè, vorrebbe, se ognuno di noi potesse dire la propria, no? Chi di noi, cioè almeno una volta non ha evitato, in qualche maniera, non ha scelto in maniera più o meno consapevole di non affrontare un problema o magari di aver rinviato anche un'azione da compiere. Ecco, per esempio, la procrastinazione è la sorella gemella dell'evitamento, potremmo dire in un certo senso. Perché in qualche maniera rinviamo un'azione che magari non ci procura sensazioni piacevoli. Quindi quello che mi verrebbe subito però da dire è stemperare un attimo la temperatura su questo tema dell'evitamento perché in realtà evitare è un vissuto normale. Evitare qualcosa è qualcosa che in qualche maniera non è del tutto sbagliato. Cioè noi scegliamo di rinviare o di evitare qualcosa che in qualche maniera ci preoccupa. Perché? Perché in fondo la nostra mente agisce sempre attraverso il binario del piacere. No? In qualche maniera noi siamo programmati per rifugire il dolore e seguire il piacere. E questo quindi non è sbagliato di per sé evitare qualcosa che ci procura dolore, no? Quindi cominciamo magari ad evitare tutte quelle situazioni che ci procurano un certo tipo di disagio. Spesso e volentieri è un disagio emotivo. Quindi che cosa è che evitiamo spesso e volentieri? La paura, l'ansia, qualcosa che ci procura ansia, qualcosa che anche ci annoia. Quindi in qualche maniera perché evitiamo? Evitiamo perché quella cosa un pochino appunto magari ci procura una sensazione di disagio e quindi evitare nel momento presente procura subito un certo tipo di sollievo, no? Ci sentiamo bene nell'immediato quando evitiamo qualcosa. E ecco quello che voglio dire fin da subito è che evitare fa bene ogni tanto. Ecco, e sottolineo la parola ogni tanto. Perché? Perché quando è che diventa un problema l'evitamento? L'evitamento diventa un problema quando diventa l'unica strategia possibile che mettiamo in atto. Chi soffre, diciamo, se potessimo dire così, di un disturbo dell'evitamento e comincia a prendere e a vivere la strategia dell'evitamento come unica strategia di vita. Questa è la vera linea di demarcazione. È quella che ci deve fare in qualche maniera, no? Far suonare un po' il campanellino di allarme. Quando utilizziamo l'evitamento come unica strategia per affrontare la vita. E quindi se volessimo utilizzare, non so, una sorta di metafora, no, potremmo dire che in qualche modo una persona che soffre del disturbo dell'evitamento in qualche maniera è come se vivesse la vita guardandola un po' dalla finestra, no? Quindi vede anche la vita degli altri, no? Vede gli altri andare avanti, vede gli altri affrontare i propri problemi, vede gli altri raggiungere i propri obiettivi. Resta fermo però. Dal suo punto di vista resta fermo. Cioè resta e si mantiene in qualche modo in una posizione di passività. Ed è questo il vero problema. E spesso e volentieri chi vive in maniera cronica, in maniera forse un po', no, disfunzionale questo processo dell'evitamento, è una persona che tende spesso e volentieri a vivere la propria vita a livello di pensiero. Cioè la vive tutta qui. La viviamo quando evitiamo. Viviamo la nostra vita molto attraverso il nostro pensare, quindi ragioniamo molto, no? Vorremmo magari cimentarci in qualche cosa, in qualche nuova attività, in qualche nuova relazione. La viviamo però tutta nella nostra testa, nella nostra mente e restiamo bloccati. Quindi in qualche modo tutto quello che è il nostro pensiero si ferma al nostro pensiero. Chi vive l'evitamento come qualcosa di disfunzionale fa proprio questo, cioè vive la vita tutta nella propria mente, tutta nel proprio pensiero. Questo tipo di, diciamo, di strategia diventa tante volte disfunzionale, soprattutto nella vita adulta. Perché? Perché già si vede, un pochino si vedono già le tracce, già nell'infanzia e prende soprattutto piede nell'infanzia, ma poi si concretizza, si materializza nella nostra vita adulta. Perché? Perché nell'età adulta siamo in qualche maniera chiamati a darci da fare. Cioè è nella vita adulta che in qualche modo, no? Si attivano, no? Tutte quelle, la responsabilità che abbiamo nei confronti delle cose che dobbiamo fare. Da piccoli questo magari viene un pochino attenuato, mentre invece nell'età adulta l'evitamento, no? Rischia di diventare qualcosa di molto presente perché nell'età adulta siamo chiamati all'azione, siamo chiamati all'agire. E come dicevamo prima, chi soffre di evitamento vive la propria vita tutta nel proprio pensiero, quindi si ferma al pensiero. E questo è un atteggiamento che spesso e volentieri, anche se nell'immediato ci dà una certa dose di sollievo, in qualche maniera dobbiamo pensarlo come a un atteggiamento che però in modo silente lavora dentro di te, lavora dentro di noi, lavora dentro la nostra psiche. E quindi crea un effetto macchia d'olio, perché cominciamo a evitare una cosa, poi ne cominciamo ad evitare un'altra, poi ne cominciamo ad evitare un'altra ancora. E quindi un po' come appunto questa metafora della macchia d'olio, cominciamo ad evitare tutta una serie di cose. E nel evitare, in che senso l'evitamento poi agisce in maniera silente all'interno, dentro di noi? Perché piano piano ingigantisce i problemi. Cioè i problemi che possono essere magari affrontabili, per chi soffre l'evitamento piano piano questi problemi diventano delle montagne enormi da superare, degli ostacoli troppo grandi. Quello che però vorrei lasciarvi attraverso la lampadina di questa mattina è un approccio, un mindset, cioè un punto di vista, ecco. E cioè che ogni volta che eviti, diciamolo meglio, ciò che eviti in qualche maniera ti torna indietro con gli interessi. E questo è il vero problema. L'evitamento nell'immediato funziona e hai ragione a dire che tutto sommato evitare non è poi così un problema. È vero perché nell'immediato ti dà la percezione di sollievo, perché stai evitando un disagio. Ma devi cominciare a pensare anche che tutto ciò che eviti in qualche maniera ti torna indietro con gli interessi, come dicevamo prima. Perché evitando stai meglio. Ma se ognuno di noi, anche in questo momento, potesse chiedersi, chiedetevi anche voi che state con me in questa mattinata, come ne esce la tua autostima ogni volta che eviti? Cioè che sensazione hai di te stesso? Perché il vero problema non è tanto evitare, ma la vita ce la giochiamo nel quanto siamo disposti invece in realtà a esporci. Cioè l'esposizione è ciò che conta nella vita, non l'evitamento. Quindi sarebbe carino che poi magari se vi va dopo la registrazione possiamo condividere un po' il nostro punto di vista, il nostro vissuto su questo. Ma se potessi chiedere a ognuno di voi quali sono le cose che state evitando in questo momento? Dalle cose grandi alle cose più piccole. Portiamo consapevolezza. Usate questa lampadina del mattino, di oggi, per intenzionalmente spostare, mettere luce su che cos'è che state evitando. Perché in realtà poi il problema, sapete qual è? È che la vita è di chi la fa. Cioè chi non la fa, la subisce. È questo il principio base di tutto. Detta così lo so che è un po' facile, un po' semplice, però se ci pensate è la verità. Quindi se potessi chiederti, ma tu ti stai adoperando oggi per forgiare la tua vita, per dare forma alla tua vita, oppure è lei che sta dando forma a te. Perché ogni volta che noi evitiamo, in qualche maniera stiamo dicendo che non possiamo dare forma a quella cosa. Ma anzi è quella cosa che stiamo evitando che dà forma alla nostra autostima, al nostro senso di poter fare o di non poter fare qualcosa. Quindi, una cosa che dicevo anche in un'altra lampadina, in un altro momento, in un altro podcast, è che in un certo senso è vero che noi evitiamo perché le cose ci spaventano, però pensateci bene, tutte le cose che oggi vi entusiasmano, cioè che sono entusiasmanti nella vostra vita, che sono belle, che vi danno piacere. Penso per esempio c'è Matteo qui online, insieme con noi, Matteo è un musicista, in particolare parlavamo e ha venuto a trovarmi qui. Aspetta Matteo non intervenire adesso, aspetta, non intervenire che se no si crea l'audio, poi ci dici il tuo dopo. Però lui mi raccontava quando è venuto a trovarmi a White Rabbit che lui è musicista, è un maestro di pianoforte ed è una cosa che lo appassiona. Bene, ma è sempre stato facile suonare il pianoforte? Credo di no. Eppure è la cosa che gli dà gusto oggi. Quindi, se ci pensate bene, ciò che oggi ci spaventa, domani ci dà entusiasmo. Cioè, pensate a tutte le cose che vi danno entusiasmo oggi, che vi danno piacere oggi. Non era qualcosa che vi spaventava in passato? O comunque non aveva un gradiente di difficoltà al suo interno, che magari all'inizio sembrava difficoltoso. Io se penso alla mia vita, lo dicevo anche in un altro podcast, per esempio, una delle cose che oggi mi danno entusiasmo nella vita è per esempio il podcast Liberamente, tutto il progetto intorno a Liberamente. Però se torno indietro nel tempo, all'inizio mi spaventava tantissimo poter accendere il microfono e cominciare a parlare di psicologia. Era una cosa che mi spaventava da matti, perché dicevo non piacerà a nessuno, nessuno sarà mai interessato a quello che dico e sicuramente nessuno potrà trarre valore da quello che posso dire io. Questa è una cosa che mi spaventava da matti. Eppure oggi il podcast Liberamente è una delle cose che mi danno più entusiasmo, è una delle cose che mi piacciono di più. Quindi il mindset, cioè il punto di vista che volevo in qualche maniera condividere con voi durante questa live di questa mattina è proprio questo. Pensate a tutte le cose che oggi vi entusiasmano. Non erano qualcosa che all'inizio vi spaventava? Quindi qual è il segreto? Il segreto è pensare non tanto non aver più paura, perché il concetto non sta qui. Cioè il problema non sta nel non aver più paura delle cose e quindi andarci a sbattere contro così in maniera da celebrolesi. Il concetto non è questo. Non è eliminare la paura della nostra vita, dal nostro vissuto, ma è affrontare la nostra paura, le nostre paure, sapendo che oltre la paura c'è l'entusiasmo, c'è il piacere, cioè quello che poi potrebbe aggiungere un valore enorme alla nostra vita. Perché nella frase classica si dice che il coraggio è una paura affrontata, io voglio aggiungere un'altra cosa, che non è semplicemente il coraggio che noi guadagniamo, quindi un concetto di autostima, quando affrontiamo le nostre paure. Ciò che veramente guadagniamo affrontando le nostre paure è di scoprire che magari oltre quella paura c'è qualcosa che porta entusiasmo nelle nostre vite. Come vi dicevo oggi, per esempio, io provo un gusto enorme nel fare podcast e nel portare avanti questo progetto. Eppure una cosa che mi spaventa quotidianamente, anche accendere la lampadina di questa mattina, fare questa diretta live, è una cosa che mi spaventava all'inizio, che dicevo magari neanche l'ho programmata, chissà quanta gente verrà, magari non verrà nessuno, parlerò da solo, invece è bello vedere che siamo in tanti qui questa mattina e questa è una cosa, stare qui questa mattina insieme con voi mi dà entusiasmo, è una cosa bella, porta valore e piacere alla mia vita. Quindi pensate anche voi nella vostra vita, ciò che state evitando oggi, una volta che ce l'avete chiaro, quale potrebbe essere il terreno entusiasmante che può aprirsi una volta affrontata quella paura davanti a voi. Perché pensate a una cosa, che le nostre grandi paure in fondo, se ci pensate bene, una grande paura come si crea? Da tante piccole paure evitate. Cioè noi è come se ogni volta che incontriamo davanti a noi qualcosa che ci spaventa, anche di piccolo, noi ce la buttiamo alle spalle, evitandola. Quindi sicuramente nell'immediato proviamo piacere, ma la vita non è un percorso, uno scatto a 100 metri, la vita è una maratona, quindi ogni volta che noi evitiamo qualcosa e ce la buttiamo alle spalle, nell'immediato proviamo piacere, ma buttandocela alle spalle creiamo sempre di più una grande paura dentro di noi, dietro di noi, su quello che è poi il nostro vissuto. Quindi il concetto che volevo lasciarvi non è adesso e poi affrontate tutto ciò che vi spaventa, non è questo, però è di cominciare a mettere in moto una riflessione ulteriore, perché così come tante piccole paure evitate generano grandi paure, così allo stesso modo tante piccole paure affrontate generano un grande coraggio. Quindi è questo quello che volevo in qualche maniera condividere con voi questa mattina, questi due aspetti importanti del mindset, che ciò che ti spaventa oggi, domani può diventare il grande entusiasmo della tua vita e se pensi a ciò che ti entusiasma oggi, io sono convinto quasi al 100% che in passato ti spaventava, c'era qualcosa che ti spaventava, eppure oggi ti entusiasma. E la seconda cosa importante che volevo lasciarvi con questa lampadina è proprio questo, che ogni piccola paura non affrontata genera una grande paura domani. Quello che dicevamo prima, no? In qualche maniera ciò che eviti oggi ti torna indietro domani con gli interessi, mentre invece nello stesso modo, con lo stesso meccanismo, ciò che oggi affronti domani ti torna indietro con gli interessi, cioè in termini di autostima, cioè di consapevolezza nelle tue capacità, nel tuo senso di autoefficacia, cioè di essere efficace nelle cose che fai. Questo è un pochino il punto di vista, la lampadina che vogliamo accendere questa mattina, quindi adesso passiamo al mi fermo qua, nel senso che era semplicemente un piccolo insight, mi fermo qui con la registrazione in modo tale che poi potremmo trasformare questa chiacchierata anche in un episodio del podcast, che anche altre persone potranno riascoltarli. Quindi saluto tutti coloro che sono qui presenti insieme con me in diretta, stacco la registrazione, poi noi adesso che siamo qui magari possiamo continuare la nostra chiacchierata sul concetto di evitamento e quindi paura e quindi coraggio. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Per liberare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Grazie a tutti.